Eccoci qua, io devo arrivare a dieci pacchi perché avevo promesso ma ho una manciata di minuti, arrivo dove arrivo con il sesto pacco, i ladri sanno che tanto la fanno franca. E' la storia raccontata dal quotidiano Il Piccolo di un romeno arrestato per rapina, che sbeffeggia le forze dell'ordine, irride i carabinieri, ha rubato in un outlet, l'ha ambeccato con l'aria furtiva ai carabinieri e sapete cosa gli ha risposto? Tanto mi liberate, cioè siamo talmente un paese di emme che arrivano anche i rumeni a raccontarci come va a finire. Tanto mi liberate, questo è veramente un pacco incredibile. Poi un'altra notizia arriva da Cortina, Cortina d'Ampezzo, la prendiamo dal gazzettino, diamanti in nero un senatore, gioielliere parteggia dieci mesi. Bene, i gioiellieri gli fanno un culo così perché ha venduto i diamanti al senatore, sappiamo il nome del gioielliere che si chiama Luca Alfonsi, indovinate un po' di chi non sappiamo il nome? del senatore perché non ce lo dicono e sarebbe bello sapere chi è questo senatore che ha comprato i diamanti in nero e soprattutto da dove ha preso i soldi per pagare i diamanti in nero. La prossima porcheria è bellissima invece, riguarda Checco Zalone, solo lui può fare uno spot scorretto per sostenere la ricerca sull'atrofia muscolare spinale. Nel filmato si infuria con un ragazzo che gli frega il posto auto, lo intralcia per le scale e lo tampona con la sedia a rotelle. Aiutiamo la ricerca così un giorno Mirko potrà guarire e io potrò recuperare il mio posto auto. Meraviglioso, sensazionale, vediamo questo Checco Zalone che fa a modo suo e secondo me anche in modo molto efficace la pubblicità alla beneficenza per l'atrofia muscolare spinale. Ho cominciato ad aiutare la ricerca quando nel mio condominio si è trasferito milico. Siete benvenuti, piacere. L'ha appena comprata. Pure io. Con lui ho imparato a rinunciare a tante cose, come al sonno per esempio. Io adesso vado a abusarli. No, non è educazione. O ad un aereo spesso. Calma, calma, vai con calma. Ma rinunciare al proprio posto auto? Questo è troppo Mirko, questo mi dispiace. Ora questo è il mio posto. Questo è il mio posto Mirko, adesso io metto la macchina qui. Guarda che chiami vigili. Io chiamo la ricerca contro la SMA e dono un sacco di soldi, così tu magari un giorno guarisci. E te te. Un giorno, grazie alla ricerca, Mirko potrà ricercare il suo posto auto come tutti noi. Regaliamoli questo sogno. Beh, favoloso Checco Zalone. Andiamo subito a cose meno favolose. A Roma, Roma che affonda, ma la Raggi se la balla. E così ha deciso di partecipare all'incontro nazionale dei grillini la sindaca di Roma, Virginia Raggi. Come? Mettendosi a ballare, che tra tutti i problemi in cui sta affidando la capitale, ha deciso di fare il balletto. C'è poco da ballare, cara Raggi. Andiamo all'ultimo pacco. Ce l'ho fatta. Parliamo di un altro grillino. Il capogruppo del Movimento 5 Stelle in Regione Veneto. Scrive ai sindaci, ce lo dice il gazzettino, dovete togliermi la multa. Ha preso carta e penna su carta intestata del Movimento 5 Stelle. L'hanno beccato a 113 all'ora contro il limite di 90. Tutti noi paghiamo. Lui con tanto di documenti, carta intestata, ha detto dovete togliermi la multa. Guardate quei documenti che pubblica il gazzettino. I grillini una volta erano diversi. E questo qui è l'ultimo dei pacchi. Non credo l'ultimo dei grillini, lo credo l'ultimo in generale. Ma l'ultimo della serata. Scusate amici di Antenna 3, redazione che vi ho rubato qualche minuto. Grazie a tutti i miei tecnici. Il tempo è finito. Non ho neanche tempo per i titoli di coda. Ma per un grande grazie a tutti quelli che hanno lavorato alla trasmissione. E a voi che l'avete seguita. Buonanotte. 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 Buonanotte.